buongiorno a tutti oggi andremo a preparare delle uova la coc perfette utilizzando la nostra pentola pressione multifunzione e friggitrice ad aria di master pro by carlo cracco andiamo come prima cosa ad inserire le nostre uova nella macchina e versiamo circa 50 ml di acqua sul fondo andiamo a chiudere nuovamente il coperchio e attiviamo su funzione cottura vapore egg per tre minuti nella modalità cottura vapore dobbiamo sempre ricordarci di mantenere la valvola aperta passati tre minuti di cottura andiamo ad aprire il nostro coperchio ed estraiamo le uova mettendole subito in acqua e ghiaccio per fermare la cottura una volta raffreddate le uova andiamo ad aprirle ci aiutiamo con un cucchiaio e andiamo a battere su tutto il buscio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti